Ciao a tutti e a tutte, bentornati e bentornati in un nuovo blog. E niente di che, adesso sto andando a Sestri e niente di che, oltre a quello nulla. Sto andando dalla mia educatrice e stamattina sono andata all'Isport Cup, mi sono divertita. Oltre a quello niente, adesso poi alle sette andrò a Basket e poi niente di che. Cioè, oggi è una giornata impegnativa, adesso devo cercare di arrivare entro le tre a Sestri, che auguri a me ad arrivarci e nulla di che. Adesso io vi lascio, io adesso vi mando un bacione e ci vediamo domani con un nuovo blog, in cui sono nel giro. Praticamente sono in giro, guardate. Sì, adesso quello che vedo attorno a me è questo. E niente di che, oltre a quello nulla. Adesso vi faccio un bel giretto e noi ci vediamo domani. Ciao!